Domenica scorsa, durante la pedalata alla scoperta dei parchi pubblici della città, promossa dal comune di Ravenna in collaborazione con FIAB e gruppo Amici Bici, è stato rinvenuto l'edificio ricoperto di Ethernet nei pressi di via Fiume Montone Abbandonato. La struttura, dislocata dietro il distretto sanitario di Ravenna, faceva parte del circolo per anziani ora trasferito in via Meucci. In realtà, ben prima di domenica scorsa, alcune famiglie si erano attivate per allertare l'amministrazione comunale, alla quale abbiamo chiesto una risposta attraverso l'assessore all'ambiente Guido Guerrieri. È un fabbricato faticiente come ce ne sono altri, dove grattamente si interviene, si mette in sicurezza, questo in particolare all'interno di un fabbricato dismesso che verrà senza altro demolito nell'ambito dell'intera bonifica e sistemazione dell'area. Adesso non la vedo come un'espressione così critica. Magari è più critica esaminare o riflettere sul fatto che noi ogni anno effettuiamo decine, anzi centinaia di interventi con fondi extra programma per andare a recuperare tutti gli smaltimenti abusivi che vengono fatti su tutto il territorio del Comune. Spendiamo veramente cifre di rispetto per andare a recuperare l'Eternit che viene smaltito in modo un po' malandrino, tra virgolette. Riflettevamo qualche giorno fa, una settimana fa, anche con ERA, sull'opportunità di rilanciare una campagna di formazione. Questo magari è utile per informare i cittadini e ricordare loro che c'è la possibilità di smaltire l'Eternit. È stato fatto un protocollo che agevola, dando la possibilità di recuperare l'Eternit. Il cittadino lo sistema in accordo, gli viene spiegato cosa deve fare in modo precazionale, poi il quantitativo viene, fino a un certo peso, viene poi recuperato e smaltito da ERA, quindi agevolando e risparmiando su questo tipo di intervento. È un protocollo molto utile che forse vale la pena di riprendere, evitando che la gente vada ad abbandonare l'Eternit in giro. Questo lo vedo veramente più critico e più fastidioso. Nella fattispecie come interverrete e quando, più o meno? I tempi non lo so, perché mi avete segnalato adesso, dovrei sentirmi con i lavori pubblici, quindi non so i programmi in quella zona che priorità e urgenza abbia per pulire e sistemare. È una zona che teniamo comunque monitorata, perché non vogliamo che vadano persone che non devono, comunque non è una zona che dovrebbe essere aperta al pubblico, quindi è una zona non accessibile. Non so se per la biciclettata è stato in via eccezionale... No, attualmente è accessibile, ci passano davanti persone in bicicletta e appunto sembra che venga utilizzato come dormitorio casuale o comunque qualcuno c'è stato e ha anche mosso alcune travi di Eternit. Lo prendo come una segnalazione in questo momento, io so che era uno dei fabbricati inseriti nei controlli periodici della Polizia Municipale per evitare che i clandestini andassero a soggiornare. A questo punto rimuoverò la sollecitazione e chiederò magari controlli maggiori. Non mi risultava che ci fosse poi gente che pernottasse, questo non mi fa piacere per così dire, però lo controlleremo e vedremo che la cosa non si ripeta.